E messe ad Agrigento e Porta Empedocle le rituali ordinanze per garantire ordine e sicurezza durante il ferragosto tra spiagge e locali pubblici. Il sindaco di Agrigento Franco Miciche ha emesso la rituale ordinanza ferragostana dunque dalle ore 8 di oggi martedì 13 agosto fino alle ore 6 di venerdì 16 agosto. Tra l'altro non vi azzardate a trasportare legne e carbonelle e a accendere faloi in spiaggia. Non si montano tende per campeggio o per notamento. Non vi permettete di sparare fuochi d'artificio se non siete autorizzati. Non aumentate il volume della musica senza educazione e a San Leone sarà consentito solo durante la notte di ferragosto tra 14 e 15 diffondere musiche e canti fino alle ore 2. Evitate schiamazzi e baldorie varie. No alle feste di massa se non autorizzate da prefetture e comune. Se non obbedite anche ad un solo divieto di tutto ciò sarete multati da 100 fino a 500 euro. Se si tratta di comportamenti che costituiscano un reato, ne risponderete innanzi ad un giudice. I servizi di controllo saranno svolti dal personale delle forze dell'ordine e dai vigili urbani, anche a piedi, lungo le spiagge, nell'area delle località balneari, comprese nel territorio comunale. Quindi a San Leone, Cannatello, Maddaluse e Zingarello. E non meditate di trasferirvi verso ovest per accamparvi e infuocare. Infatti gli stessi divieti incombono anche sulle spiagge di Porta Empedocle, come da ordinanza firmata dal sindaco Calogero Martello, che ha aggiunto anche la regolamentazione alcolica. Dalle ore 20 di domani, mercoledì 14 agosto, alle 8 di ferragosto 15 e dalle 20 dello stesso giorno fino alle 8 di venerdì 16, sarà vietata anche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in bottiglie di vetro e lattine. E ciò per tutti gli alimentari, bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari e chioschi, al lavoro nelle località balneari o sulle spiagge di Porta Empedocle.